albano carrisi attivo in un fotovoltaico ed eolico selvaggio albano in commissione ambiente un'azione davvero solidaristica da parte del famoso solidaristica da parte del famoso cantante della canzone italiana il cantante ha voluto aderire all'iniziativa del consigliere regionale paolo pagliaro la riunione si terrà lunedì 25 gennaio 2021 sono felice che anche albano insieme a tanti nomi illustri del mondo politico accademico produttivo e ambientalista pugliese salentino abbia voluto aderire alla mia iniziativa di richiedere un'audizione in commissione ambiente per imporre uno stop alla proliferazione selvaggia di impianti per la produzione di energia cosiddetta pulita che stanno deturpando e snaturando il nostro paesaggio e quanto dichiara il consigliere regionale paolo pagliaro capogruppo de la puglia domani e presidente movimento regione salento albano carrisi che ha risposto con entusiasmo al mio invito a sposare questa battaglia prosegue pagliaro ancora una volta dimostra una straordinaria sensibilità umana dimostra anche un attaccamento profondo alle sue radici alla sua terra di cui peraltro da prova da sempre avendo scelto di continuare a vivere nella sua cellino san marco nonostante la notorietà internazionale di cui gode il nostro patrimonio più prezioso e la nostra identità vanno preservati da questo ennesimo scempio che si aggiunge al deserto causato dalla xylella difendere la terra continuare a coltivarla come fa albano nella sua tenuta è dovere di ogni salentino e pugliese che abbia a cuore il suo territorio d'immensa bellezza sottraendolo agli appetiti dei giganti delle rinnovabili la commissione ambiente si riunisce con il suo presidente campo il lunedì 25 gennaio mi auguro che da questo confronto concludo il consigliere allargato ad un'ampia partecipazione possano derivare finalmente regole e limiti certi che salvino quel che resta delle campagne salentine pugliesi dall'obrobrio di impianti fortemente impattanti grazie a tutti grazie a tutti